Passiamo adesso alla parte operativa pratica di supporto per tutti voi che inserite checklist o visualizzate i dati elaborati da Classifarm. La prima parte riguarda tutti gli aspetti che fanno capo alla programmazione delle attività e alla programmazione e a come è stato creato il cruscotto programmazione e quali sono le attività che ci sono lì. Ve ne parlerà il dottor Maisano che è colui che ha messo a punto il sistema della programmazione, quindi è proprio la persona che sta lavorando su questa parte da quattro anni ormai e che quindi ha vissuto tutto lo sviluppo e che oggi sta facendo frutto di tutte le proposte vostre adeguando il sistema della nuova programmazione. A te Antonio. Buongiorno a tutti, la presentazione avrà un taglio molto pratico proprio per entrare nel vivo di quello che appunto si va a fare. Adesso per riassumere e riprendere un attimino i concetti del piano come abbiamo già visto e ci ha mostrato anche prima Luigi Possenti sul benessere, in maniera analoga anche sul piano della farmacosorveglianza, come detto prima della dottoressa Candela abbiamo vari allevamenti con varie quote diciamo stabilite a priori sulle varie specie per quanto riguarda i controlli, per quanto riguarda due macropopolazioni, sono gli allevamenti di grandi dimensioni e di piccole dimensioni. Abbiamo prima questa grossa divisione un po' per tutte le specie. Dentro la parte delle grandi dimensioni che in sostanza poi raggruppano anche la maggior parte degli allevamenti e degli animali allevati abbiamo un'ulteriore divisione in tre macro quote con diversi criteri di scelta degli allevamenti. Il primo che viene adottato è un criterio casuale, quindi riguarda proprio un'estrazione casuale di questi allevamenti che poi saranno oggetto di controllo. Tutti gli allevamenti di grandi dimensioni vengono categorizzati sulla base del rischio e viene fornito poi il relativo indicatore che andremo a vedere. La quota a rischio quindi viene scelta sulla base della percentuale scelta sulla specie ed è insita nel 60%, quindi vengono proprio sostanzialmente scelti il 60% della percentuale precedente e quindi viene proprio creato il relativo elenco. Tutti gli altri allevamenti che non rientrano nelle prime due quote, di quelle di grandi dimensioni, rientrano in quelle a disposizione per la quota regionale, dove l'autorità competente sulla base appunto degli altri rischi conosciuti provvederà a programmare i controlli mancanti, così anche poi per la quota regionale per gli allevamenti di piccole dimensioni. Quali sono macroscopicamente i dati che vengono tenuti in considerazione per la categorizzazione del rischio? Come abbiamo visto alcuni sono comuni sia al piano benessere che farmaco sorveglianza e sono essenzialmente i dati che derivano da consistenza e movimentazione e censimenti e i dati relativi alla mortalità ovviamente poi per le specie dove questo dato è disponibile. I criteri specifici per il piano della farmaco sorveglianza prendono in esame il consumo di antibiotici espresso in DDD totali per l'allevamento, parliamo di DDD di biomassa, e il consumo sempre in DDD però per gli antimicrobici critici. Poi le altre punti che vengono presi in esame sono l'esito dell'ultimo controllo ufficiale negli ultimi tre anni e il punteggio rilevato con la checklist di farmaco sorveglianza. In aggiunta sono tenuti in considerazione la presenza di eventuali anomalie di registrazione del farmaco. Ora sono tutti i dati come vedete che vengono espressi in maniera diversa, con scale diverse. Questi vengono sostanzialmente normalizzati sotto alcune scale e il tutto va a generare un indicatore che viene poi pesato per ogni voce che abbiamo appena visto. Questo per poi andare a creare un ranking di rischio. Adesso veniamo alla parte più operativa. L'accesso come avete sempre visto è sempre tramite Vetinfo, poi Classifarm. Si va sostanzialmente, per quello che vedremo adesso durante questa presentazione, al cruscotto che viene denominato rischio programmazione. Questo tipo di cruscotto sostanzialmente permette di visualizzare tutti gli elenchi, quindi nel dettaglio, per le varie finalità, per i vari piani. L'accesso selezionando il ruolo, selezionando i cruscotti, poi tramite questa nuova maschera di interfaccia permette di selezionare direttamente la programmazione dei controlli ufficiali e di accedere al cruscotto. Come preannunciato, sono stati fatti dei rilasci e quindi al momento avete appunto un cruscotto rischio programmazione REV1. Allora, innanzitutto, quando accedete al cruscotto, vi trovate questa schermata. È fondamentale che voi iniziate a selezionare cosa volete andare a vedere. Adesso stiamo parlando di piano di farmacosorveglianza, quindi sarà necessario in alto sostanzialmente segnare l'area tematica relativa al piano corrispondente. In seconda battuta sarà necessario selezionare la relativa specie. È possibile selezionare anche una data di controllo, ovvero poter andare indietro a livello storico per vedere a quel giorno com'era la situazione. E come nuova aggiunta vedete che è comparso una casellina con anno. Da quest'anno appunto poi tutti gli anni sostanzialmente rientreranno nel medesimo cruscotto. Poi dati ancora in alto a destra, vediamo che è possibile resettare i relativi filtri impostati o accedere anche a una guida informatica. Infine abbiamo sempre una data alla quale il cruscotto è aggiornato. Ora i vari aggiornamenti per i vari piani, per i vari dati, come avete visto, come ha descritto bene il dottor Possenti, sono tanti e alcuni sono ottimizzati in vari periodi. Quindi ci può essere, soprattutto per quanto riguarda i dati benessere, una lieve discrepanza di tempo per cui poi si aggiornano i relativi cruscotti. Per quanto riguarda invece la farmacosoveglianza, oggetto di quello che stiamo parlando oggi, il cruscotto è aggiornato sostanzialmente a cadenza giornaliera. Ora, cosa possiamo vedere appunto in questa prima maschera iniziale? Beh, allora innanzitutto abbiamo sotto i filtri la possibilità di cambiare le relative pagine. Quella che stiamo visualizzando è quella denominata mappa regioni e che ci dà un andamento globale di come sta andando il piano per la nostra area di selezione, ovvero il numero di allevamenti controllati sull'obiettivo in maniera globale e divisa per le due macropopolazioni, allevamenti di grandi dimensioni e piccole dimensioni. Inoltre possiamo vedere anche la rappresentatività degli animali controllati negli allevamenti controllati rispetto al nostro totale. Infine abbiamo anche l'indicatore di conformità sui controlli eseguiti. Questa heatmap centrale sostanzialmente ci ritorna le informazioni circa l'andamento per tutti i parametri che abbiamo visto a livello nazionale per le varie regioni. A confronto abbiamo sulla costola di sinistra i relativi indicatori nazionali di come sta procedendo il piano. Questo appunto è per permettere di visualizzare come sta andando il piano un po' in maniera aggregata. A destra, in alto destra, vediamo questo tipo di grafico che ci sostanzialmente monitora per l'area di selezione, come stanno progredendo nello storico i controlli. Da un punto zero dove gli allevamenti erano programmati sostanzialmente in funzione del rischio, casuale e così via, man mano la linea rossa, quindi diciamo gli allevamenti programmati, decrescono e cresce la linea verde acquisendo anche la quota dei controlli regionali che non potevano risultare perché appunto sono programmati a livello regionale. Una delle novità introdotte con questa revisione di Cruscotto è una tabella rendicontativa che aiuta sia in fase di programmazione sia in fase di monitoraggio dell'andamento del piano circa appunto gli obiettivi fissati dal piano con le relative numerosità che come questi controlli vanno a popolare soltanto le varie quote programmate. Quindi avremo proprio il dettaglio di allevamenti totali controllati con anche l'esito in fondo a sinistra e per ogni quota, quindi avremo sia il macro dettaglio che il micro dettaglio per quanto riguarda la relativa quota. Questo elenco è suddiviso sostanzialmente per ASL e ovviamente è accessibile in funzione delle vostre credenziali ovvero l'utente regionale ovviamente potrà vedere tutta la regione e la divisione per ASL l'utente del servizio veterinario di una singola ASL vedrà solo la sua ASL chiaramente poi c'è la divisione anche tra piccole e dimensioni. Altra tabella importante che è sostanzialmente cardine e della funzionalità di questo cruscotto serve proprio anche nella fase di programmazione è andare sostanzialmente ad accedere, ad estrarre agli elenchi per le varie finalità ovvero io voglio sapere quali allevamenti sono stati programmati in funzione del rischio o in funzione del caso oppure ho la necessità di andare chiaramente a prendere l'elenco dei soli allevamenti per la quota regionale e quindi può andare a scegliere sostanzialmente gli allevamenti che saranno controllati. Tramite appunto la funzione che avete in alto sotto i filtri di tabella allevamenti è possibile accedere per l'impostazione dei filtri che avete fatto a monte quindi ad esempio piano, farmaco, specie, suino andare a prendere la popolazione che volete sostanzialmente estrarre e consultare a livello di cruscotto per poi procedere alla relativa programmazione come tutte le tabelle e tutti i grafici esse sono esportabili in un classico formato Excel che può tornare utile alle relative analisi. Dovete sostanzialmente cliccare a livello dei tre puntini in alto a destra, esporta dati e vi verrà poi generato un Excel. Al momento questa estrazione va ripetuta ovviamente per l'elenco che si sta vedendo, voi scaricate sostanzialmente come ad esempio in questo caso l'elenco della quota regionale delle grandi dimensioni. Così va ripetuto un attimino per le altre. In questo modo, che è stata anche un'altra novità di questo cruscotto, sostanzialmente si hanno bloccate per le varie tabelle e selezioni le relative quote. Così facendo è possibile monitorare gli allevamenti ad esempio programmati per il rischio se mano a mano vengono controllati o meno con il relativo esito favorevole o meno. È stato aggiunto anche un indicatore cromatico al momento in questo screenshot è tutto nero quindi programmato o disponibile, perché qua siamo nell'elenco regionale, se avessimo appunto dei controlli effettuati favorevoli diventerebbe verde, altrimenti rosso in caso di sfavorevole. Ovviamente mostra poi questo indicatore l'ultimo controllo pervenuto. C'è anche la funzionalità, sempre per tutte le tabelle e grafici, di ingrandire questa visualizzazione e di vederlo a schermo sostanzialmente intero solo proprio la tabella, attraverso questo pulsante e questa funzione. Ricordo poi che chiaramente questo tipo di tabella, come adesso vedremo più avanti, riporta determinati dati. Ovvio che poi la valutazione non si deve fermare al solo dato puntuale, ma deve essere approfondita sui cruscotti per area tematica, come ad esempio quelli dedicati alla biomassa per singolo allevamento. Una volta che l'allevamento è stato estratto in funzione del rischio, si deve andare a fare il controllo, io prima di andare a fare il controllo ho la possibilità di vedere la situazione nel dettaglio sui relativi cruscotti che vedremo dopo. Questo è un esempio, ho tagliato la parte di anagrafica e questi sono i dati che sostanzialmente vi potete trovare a livello di tabella utilizzata per la categorizzazione. Avete un ranking di rischio che sostanzialmente parte con il ranking da 1 a n e l'allevamento con il ranking 1 è quello che è più a rischio. Ovviamente questo, se non erro, era una tabella regionale e quindi partiamo da un altro numero. È ordinabile, viene presentata secondo vari ordini, ovvero voi la tabella la potete ordinare ad esempio per codice allevamento, per denominazione, per ranking e così via. Quindi basta cliccare sopra ranking che vi comparirà una freccettina e sarà possibile anche ordinare a vostro piacimento la relativa tabella. Qui come vediamo vengono riportati degli attributi sostanzialmente per quanto riguarda l'allevamento, quindi se è controllabile, quindi all'allevamento di grandi dimensioni o in intensivo piccole dimensioni, il dato relativo alla consistenza, il dato relativo poi alla mortalità, per questo faccio una precisazione perché è espressa in quartili e quindi dove abbiamo mortalità 1 sostanzialmente è la presenza nel miglior quartile dove quindi sostanzialmente è più bassa, gli allevamenti con il numero 4 sostanzialmente hanno la mortalità peggiore. Poi abbiamo la parte relativa al consumo del farmaco, espressa in DDD, consumo totale e poi le DDD per il consumo dei critici. Andando avanti avrete varie colonne, alcune adesso le ho eliminate perché fanno capo delle informazioni aggiuntive ma non vengono tenute in considerazione per la categorizzazione del farmaco ma possono essere d'aiuto ad esempio se abbiamo dei controlli congiunti sia benessere che farmaco e quindi sono state integrate. Però il controllo ufficiale di farmaco sorveglianza, quello eseguito chiaramente fino all'anno precedente, dove troveremo sia l'esito che il relativo punteggio ottenuto alla checklist. Poi avremo delle date di aggiornamento e il relativo esito del controllo con anche chi ha compilato. Tra tutte queste informazioni abbiamo anche la cosiddetta colonna che riporta le cosiddette allerte di cui abbiamo parlato prima. Sostanzialmente fanno capo a più fonti, una viene direttamente trasmessa dalla REV e fa capo all'assenza di ricette con alto numero di animali. Questo è un tipo di anomalia. Queste sono le voci che sostanzialmente potete trovare più frequenti. Come detto, grazie all'adozione del registro di trattamenti obbligatorio, sono chiaramente in via di forte riduzione. Erano sostanzialmente delle anomalie dovute a delle registrazioni fatte in maniera più sbrigativa. Come abbiamo visto, ad esempio, c'era lo scarico semplificato, in alcuni casi non era possibile ricondurre la categoria, in alcuni anche la specie. Adesso, sostanzialmente, grazie alla parte del trattamento elettronico, tutti questi errori sostanzialmente andranno pressoché ad azzerarsi. Le altre anomalie riscontrate fanno capo a un dato di consumo anomalo rispetto a prescrizioni o scorte. Cosa vuol dire? Abbiamo presenza di medicinali erogati, ma non abbiamo sostanzialmente indicazioni di trattamento o scarico. Quindi è come se fossero sempre rimasti lì. E poi abbiamo degli errori, dei casi puntuali, che spesso erano in funzione di errate registrazioni puntuali, di magari unità di misura errate. Però anche questi sono sempre in fase di riduzione. Quindi, sostanzialmente, di queste quattro casistiche di errore, vi potreste trovare poi puntualmente, sostanzialmente la prima parte e l'ultima parte, le altre due sostanzialmente consideriamo che vadano in fase di completa eliminazione nel corso di quest'anno. Poi avete un'altra colonna che vi riporta allo stato dell'allevamento, e quindi vi richiama sostanzialmente in quale lista faceva capo quell'allevamento. Quindi, se disponibile per la quota regionale, se programmato a rischio, se programmato casuale, questo stato poi si aggiornerà con controllato esito favorevole o controllato esito sfavorevole, e in alcuni casi come chiuso. Questa casualità viene assumita in automatico al momento in cui viene controllato il medesimo codice aziendale e non risulta un altro allevamento aperto. Quindi, se l'allevamento è dentro la quota regionale, vi ritroverete quell'allevamento chiuso e sostituito da quello che è stato controllato. Poi vi ritroverete chi ha fatto il controllo e l'ultima data di modifica con la motivazione dell'aggiornamento. Questo è un esempio un attimino più pratico per agevolare un po' meglio la lettura. Se dovessimo confrontare questi allevamenti, vediamo che sicuramente il primo è quello che è il sistema identificato maggiormente a rischio ed effettivamente vediamo che la consistenza dei capi è comunque più alta rispetto sicuramente a quest'ultimo caso, anche la mortalità e anche i dati di consumo, sia totali che per antimicrobici critici. Questa è un'altra delle funzionalità presenti a Cruscotto. la possibilità di vedere quello che abbiamo visto ora in tabella graficamente sulla mappa e quindi avere un'idea anche di impatto di come stanno andando i nostri controlli, gli elementi che sono stati controllati o meno, o quelli con esito favorevole o sfavorevole. Ovviamente tutto nelle didascalie è citato e ovviamente mantiene la medesima divisione, quindi avremo allevamenti, ad esempio come in questo caso quota casuale, quota regionale di grandi dimensioni, quota rischio e quota casuale per le piccole dimensioni. Ovviamente poi diciamo per le varie aree risultano anche più ristretti e graficamente più attinenti. Altra finalità diciamo implementazione resa disponibile su questo controllo è quella sostanzialmente di monitorare l'andamento dei controlli durante gli anni, sia per gli allevamenti di grandi dimensioni che piccole dimensioni. Attraverso sostanzialmente questa maschera voi potete scegliere cosa sostanzialmente visualizzare, come ad esempio allevamenti di grandi dimensioni per l'area e la specie selezionata, e vedere negli anni sostanzialmente come stanno progredendo i controlli e quanti allevamenti sostanzialmente anche diversi vengono controllati, sia da un punto di vista proprio puntuale, quindi allevamenti diversi controllati, che anche da un punto di vista potenziale, ovvero quanta popolazione poteva aver tenuto sotto controllo se avessi controllato tutti gli allevamenti diversi. Ovvio che uno dei criteri basilari è quello anche di, che è inseto nella programmazione, è quello anche di verificare gli allevamenti che sono venuti non conformi l'anno scorso, quindi una quota obiettivamente per forza sarà comunque ricontrollata, però questo diciamo anche dà un dato oggettivo in più. La tabella presente sulla sinistra fornisce e restituisce l'elenco di tutti i controlli effettuati per quegli allevamenti negli anni di riferimento, con l'edizione sia di quando è stato controllato, chiaramente il tipo di allevamento, il tipo di controllo, e se è stato l'ultimo controllo o meno, quindi voi vi potete ritrovare chiaramente magari tre, quattro controlli sul medesimo allevamento, ma avrete anche l'indicazione di qual è l'ultimo. Ok, non si vedono i titoli sopra, comunque questa è la fase relativa alle sostituzioni, quindi abbiamo visto tutta la parte relativa a dove trovare gli elenchi, come scaricarli, come poter poi procedere alla programmazione anche delle relative quote regionali, chiaramente si accede all'elenco degli allevamenti e poi si procede, e poi può capitare chiaramente che durante l'anno sia necessario chiedere alla sostituzione o sostituire alcuni allevamenti programmati in funzione del rischio o in funzione del caso. Per queste finalità, sostanzialmente, come era già descritto dal piano, per la parte degli allevamenti casuali sarà necessario chiedere una riestrazione centrale, per quanto riguarda invece quelli programmati in funzione del rischio, sostanzialmente siamo già nella fattispecie di individuare i prossimi a essere controllati. Quindi lo step 1 è quello di sostanzialmente estrarre la popolazione dove io devo effettuare questo tipo di sostituzione, andare a eliminare le righe di cui non ho necessità e individuare invece l'allevamento che io devo sostituire, dando chiaramente una motivazione concreta che poi appunto viene ben sancita. A questo punto basta trasmettere questo file e come abbiamo visto per la quota casuale verrà riestratto, per la quota invece a rischio sostanzialmente noi possiamo procedere andando direttamente nella quota delle grandi dimensioni quota discrezionale regionale e a prendere l'allevamento con il ranking più basso. In automatico sostanzialmente il sistema in caso di sostituzione attribuirà al prossimo successivo disponibile il relativo controllo. In caso ovviamente sia stato adottato o sia già stato controllato per una quota regionale quindi bisogna procedere al successivo o ai successivi quindi anche in questo caso è chiaramente necessario comunicare quale allevamento viene sostituito ugualmente a quanto abbiamo visto prima quindi con l'estrazione e comunicando la sostituzione. Ovvio che deve rimanere nel medesimo ambito del piano, della specie e della categoria di allevamenti quindi allevamento di grandi dimensioni per allevamento di grandi dimensioni della medesima specie suino per suino. L'ultima fase è appunto quella di invio di queste sostituzioni tramite mail a livello tramite il referente regionale che raccoglie e controlla questo tipo di segnalazioni e le trasmette e quindi dopo verranno relativamente aggiornati i cruscotti. Erano previste di base due finestre per appunto apportare questi cambi e così via. Questa era la prima parte relativa appunto alla consultazione e all'effettuazione della programmazione e adesso procederei con la seconda relativa alla parte di inserimento della checklist. Ovvio che allora il sistema Classifarm è un sistema aperto quindi è già in atto la cooperazione applicativa con le regioni che hanno i loro applicativi quindi sostanzialmente trasmettono direttamente il dato e adesso vediamo come sostanzialmente funziona l'inserimento a livello di checklist. Innanzitutto dove trovare la documentazione cartacea sostanzialmente informativa riguardante la tematica e la checklist sul sito è disponibile appunto sia la checklist cartacea che nel manuale interpretativo per i vari item valutati che è una guida utente che aiuta diciamo in caso di dubbio l'inserimento. L'accesso come abbiamo già visto è sempre a livello di Classifarm selezionate il ruolo e selezionate trasmissione checklist. A questo punto abbiamo due possibilità di inserimento una tramite applicativo e una direttamente via browser web HTML5. Questa è stata una delle novità introdotte richieste appunto per abbattere eventuali barriere di natura informatica e quindi è possibile sostanzialmente compilare direttamente da web. Per quanto riguarda l'installazione ovviamente se si utilizza l'app sarà necessario scaricare e installare la relativa applicazione che consiglio chiaramente e caldamente di mantenere costantemente aggiornata. Adesso vediamo nel dettaglio la parte relativa all'inserimento via web. Quindi cliccando sulla parte di questionari voi accedete alla parte di compilazione via web. Tutto quello che viene fatto sia lato app sia lato web viene costantemente diciamo reso disponibile. quindi se avete iniziato una checklist via app ve la ritroverete comunque via web. Per iniziare chiaramente si parte dalla creazione del nuovo questionario. Nella parte prima avete comunque tutto l'elenco dei questionari compilati in caso non ne abbiate avete la schermata vuota. Parte la creazione con la scelta della specie con la scelta della checklist che volete compilare poi digitando il codice o parte del codice tramite la funzione cerca sostanzialmente vi viene proposto l'elenco degli allevamenti a cui potete diciamo poi compilare. Chiaramente questo è in base in base all'area territoriale di competenza. A questo punto selezionate l'allevamento cliccando sostanzialmente il pulsante in corrispondenza delle azioni e vi si autocompileranno le relative voci. Stiamo lavorando in maniera sempre più stretta e profigua con la parte di banca dati al fine di ottimizzare e far autocompilare tutte le voci sono in corso dei rilasci durante questa la prossima settimana per cui sostanzialmente vedrete che man mano alcune informazioni che all'inizio o per alcune specie non si compilavano in automatico andranno sempre più a compilarsi in automatico e sostanzialmente poi la parte di modifica che verrà sostanzialmente resa disponibile sarà sostanzialmente la data del questionario quindi identificazione dell'allevamento e mi raccomando attenzione alla data del questionario qua diciamo sono riportate due casistiche diciamo di verifica e che sono un attimino comportate in qualche errore in qualche diciamo segnalazione per cui non ci si è ritrovati dopo l'allevamento a livello di cruscotto sostanzialmente poi sono state tutte corrette andando avanti sostanzialmente si procede con la compilazione del questionario la prima parte riguarda le informazioni generali e specifiche diciamo dell'allevamento anche in questo caso alcuni dati verranno poi automatizzati avete la possibilità appunto di vedere la risposta che è stata fornita con una spunta verde in corrispondenza di ogni domanda e risposta e al salvataggio avete sostanzialmente anche l'indicazione se la sezione è completa o no questa diciamo era una sezione che in alcuni campi non c'era diciamo l'avviso e per cui provvederemo comunque a implementare anche questo tipo di avviso quando diciamo il dato è mancante è possibile ovviamente anche cancellare il tipo di risposta in particolare se magari abbiamo caricato un allegato come prevede diciamo l'ultimo l'ultima sezione dove c'è appunto il caricamento del verbale al termine del questionario una volta salvato vi compare un messaggio che il questionario è completo e può essere caricato e vi comparirà in fianco all'icona dell'home quindi della testata del nostro questionario dove potremo rivedere i dati generali la possibilità di caricare già a fine checklist sostanzialmente il questionario senza dover passare da altri punti a questo punto dopo aver visualizzato tutte le sezioni aver completato tutte le sezioni come detto dopo il salvataggio vi compare l'avviso che il questionario è completo e lo potete caricare a livello di checklist dopo il caricamento vi comparirà poi anche la possibilità di creare una stampa pdf in caso ci siano delle mancate compilazioni sono previste diciamo per tutte le domande compare proprio il relativo avviso a livello di sezione quindi vi ricordo se avete compilato o meno quella determinata domanda al salvataggio avvengono degli automatismi e controlli inseriti come regole a livello di sistema quindi ad esempio se noi non volessimo compilare un'area perché stiamo effettuando un secondo controllo un ricontrollo un qualcosa diciamo di puntuale quindi non necessitiamo di compilare una determinata area in automatico cliccando diciamo no a una risposta al salvataggio vengono sostanzialmente assegnate le risposte non applicabili alle altre quindi diciamo ci sono i relativi automatismi così come anche nella sezione l'ultima sezione diciamo relativa alla check è quella della valutazione finale dove sostanzialmente il sistema al salvataggio vi ricorda sostanzialmente le eventuali non conformità assegnate per le sezioni della checklist e va a fare il calcolo sia del punteggio che dell'attribuzione macroscopica del rischio per quanto riguarda la checklist che avete compilato quindi voi al salvataggio sostanzialmente il sistema rielabora direttamente tutta la checklist che vi fornisce sostanzialmente sia il punteggio che la risposta che vi ricorda il numero di non conformi quindi non grandi non piccoli per le tre sezioni normative poi chiaramente ci sono le ultime due valutazioni da fare che riguardano sia la congruità dei consumi che l'esito appunto del controllo e quindi chiaramente se poi doveste dare un esito sfavorevole poi anche il relativo rischio si aggiornerà l'opzione di caricamento può essere fatta anche a livello appunto di maschera generale di elenco dei questionari tramite la funzionalità riguardante nelle azioni quindi chiaramente questo è possibile solo se la checklist è completa e riceverete chiaramente un avviso in caso è possibile o meno come faccio a sapere se la checklist è stata caricata dal sistema comparirà la data di completamento questo diciamo mi garantisce che la checklist è stata trasmessa al sistema come detto dopo aver caricato la checklist se sono a livello di checklist o se sono a livello di elenco dei questionari ho la possibilità di stampare sostanzialmente di generare un pdf della relativa checklist e quindi avere anche un documento in pdf quindi è possibile farlo sia al termine del questionario dopo averlo caricato vi ricordate qui c'era vi compare un'icona verde quando potete caricarlo dopo che l'avete caricato vi compare l'icona col simbolo del pdf e se appunto la cliccate darete un nome a quel pdf e poi sarà generato e disponibile disponibile dove questa volta solo a livello di elenco di questionari avete la funzione dove vi richiama i documenti generati qui avrete l'elenco delle varie stampe che avete effettuato e avete la possibilità di visualizzare e scaricare il relativo pdf o anche quello di inviare una email il relativo pdf come detto sono state diciamo introdotte alcune funzionalità tra quali la funzione di modifica e quindi questa diciamo rimane attiva con la data limite che diciamo è stata trasmessa e poi verrà comunque ribadita dal ministero e chiaramente quando voi accedete alla funzione di modifica che è sempre attiva finché il questionario imbozza è attiva fino alla data x per quanto riguarda quelle già compilate soltanto vi dovete ricordare una volta che iniziate la parte di modifica dovete poi anche ritrasmettere il questionario quindi effettuate la modifica salvate e poi inviate il questionario chiaramente qua potete poi accedere in maniera molto agevole sia la parte di questionario scorrendo pagina per pagina che andando direttamente al punto focale dove dovete effettuare la modifica è disponibile anche la funzione coppia che sostanzialmente mantiene di base tutto quanto è stato rilevato in quel controllo e poi è possibile modificare chiaramente la data del controllo è tutto quello che è necessario modificare per l'autocontrollo quindi sostanzialmente è un'agevolazione che vi tiene in memoria sostanzialmente tutta la parte della gestis di domande e risposte è disponibile ovviamente solo per l'allevamento compilato quindi noi possiamo utilizzarlo per ed esclusivamente solo per quell'allevamento la funzione cancella è possibile chiaramente per il questionario che sono presenti in bozza quindi che non hanno la data di completamento ok abbiamo visto anche la parte relativa all'inserimento all'inserimento Grazie.